Il Centro di Reabilitazione Neurocognitiva del CIMEC promuove un'iniziativa aperta a tutti, allo scopo di mantenere attiva la nostra mente. Proprio per questo motivo l'iniziativa si chiama Allenamente. Ogni settimana sul sito del CERIN saranno caricati numerosi esercizi di informazioni utili a conoscere alcune curiosità sul funzionamento cognitivo. La scorsa settimana ci siamo occupati dell'abilità visospaziali, mentre questa settimana ci occuperemo delle abilità finanziarie. Abilità finanziarie che sono state recentemente definite come le capacità di gestire il denaro e le attività finanziarie nei modi che soddisfino le esigenze di una persona e che siano coerenti con i suoi valori ed interessi personali. Le abilità finanziarie vanno considerate come un insieme di capacità in stretta connessione con alcune delle funzioni cognitive che abbiamo descritto nei precedenti video. Per quel che riguarda la memoria, ad esempio, la memoria prospettica abbiamo detto essere quella che ci permette di ricordare di fare qualcosa nel futuro, come ad esempio di pagare una bolletta. La memoria episodica è invece quella che ci permette di ricordarci se abbiamo già pagato con la bolletta, evitando così di pagarla due volte. In precedenza abbiamo definito le funzioni esecutive come un insieme di capacità che interviene quando dobbiamo formulare, eseguire e controllare un piano d'azione, specialmente in situazioni complesse o insolite. Immaginate di voler acquistare una casa. Sicuramente dovrete fare delle stime sul suo valore, pianificare delle visite, degli incontri con il consulente finanziario, valutare criticamente se quella casa vale quella spesa e quindi prendere una decisione. Anche il controllo inibitorio è fondamentale per non esagerare negli acquisti, come ad esempio quando sei in un negozio di abbigliamento o davanti allo scaffale di un supermercato. Strettamente connessa con le funzioni esecutive, la capacità di giudizio, che ci permette di dare risposta a dubbi come quello tra scegliere di investire i nostri risparmi nelle quote di un albergo di lusso oppure depositarli in banca. O ancora, scegliere quale auto acquistare per il tragitto casa lavoro, una superauto sportiva oppure una normale utilitaria. Anche il linguaggio è connesso con le abilità finanziarie, in particolar modo la componente semantica, ossia quella legata alla conoscenza del significato di alcuni concetti finanziari di base, come quello di mutuo, di rendita e di interesse. Non da ultimo, ovviamente, è cruciale il ruolo delle abilità matematiche e di calcolo. Immaginate di voler acquistare una maglietta al costo di 12,99 euro e di recarvi alla cassa con una banconota da 20 euro. Sareste in grado di calcolare prontamente quanto resto vi dovrebbe dare la cassiera? Va da sé che le abilità finanziarie e la derivante capacità di gestire i propri averi hanno importanti ricadute sia sul versante psicologico sia su quello legato al mantenimento della propria autonomia, concetto quest'ultimo fondamentale per il benessere dell'individuo. Da ultimo è bene ricordare che è possibile che le abilità finanziarie possano essere compromesse nelle fasi iniziali della demenza, ma che i pazienti al contrario forniscano una sovrastima delle loro abilità finanziarie. Questo è sicuramente fonte di preoccupazione perché questi pazienti potrebbero cadere vittime di truffe o di frodi finanziarie. Di qui il ruolo è importantissimo e dei familiari e dei clinici nell'accorgersi delle prime avvisaglie del disturbo. Bene, ora che avete raccolto maggiori informazioni sul funzionamento delle abilità finanziarie, non dimenticatevi di esercitarle. Potete trovare ulteriori suggerimenti e scaricare gli esercizi specifici sul sito del CERIN.